Buonasera a tutti, ciao a tutti cari amici, siamo alla dodicesima trasmissione delle nostre dirette e questa sera come preannunciato ci aspettiamo un grande successo di appassionati del tennis tavolo che si aspettavano l'ospite di questa sera, un grande ritorno sugli schermi del tennis tavolo e l'ospite assieme a me a Bruno che saluto, ciao Bruno, è Francesco Manneschi, ciao Francesco, ciao Alberto, ciao Bruno, buonasera a tutti ragazzi. Lo aspettavamo Francesco perché è uno dei personaggi più precisi e più anche discussi per il suo modo di vedere e di dire concretamente quello che pensa sul tennis tavolo e su tutte le cose, io lo posso dire perché anche non solo di tennis tavolo perché fortunatamente è stato anche un atleta della mia società per un anno molto lontano, purtroppo devo anche dire che non era più il Mann campione d'Italia, però è sempre stato un atleta e un amico che mi ha dato tante soddisfazioni e soprattutto dal quale ho imparato tante cose e con il quale sono sempre rimasto in contatto. Francesco, ti ricordi vero quell'anno? Sì sì, fu una serie A1 a Forlì e fu un campionato abbastanza impegnativo un po' per tutti e diciamo che fummo anche un po' sfortunati perché retrocedemmo per una differenza sette mi sembra. Sì sì sì, retrocederemo perché fu il primo anno della doppia Davis con il pareggio, fu la prima squadra a fare pareggio in un campionato italiano di A1, mi ricordo ancora i due pareggi che facevamo in particolar modo, furono contro il primo in assoluto, contro il Cagliari in casa a Forlì, contro Yan Ming, Luca Ricci, Cristian Mersi e Roberto Mareddu. Noi giocavamo con te, Renato Apolloni, Wang Zenguan che ho rivisto recentemente dopo più di vent'anni e che ti saluta, ma per questo te l'avevo già detto, e con Gabriele Giardi di San Marino e come riserva anche Andrea Stefanelli, padre di Federico che oggi ha detto che ci seguiva anche lui assieme a tutto il resto, da poco entrato nel gruppo Cavallo nella famosa chat. La volevi salutare la chat, Manne? Sì, volevo salutare tutti i ragazzi della Cavallo Top Player Chat perché in questo periodo di quarantena mi stanno facendo una grandissima compagnia. Grandi ragazzi, organizzatevi per le prossime scene, mi raccomando, eh. Bruno, io voglio salutare gli amici che si sono collegati subito, Massimiliano Mondello, numero uno, è il primo, dice, grande manne, Mario Gabba, Eugenio Bertagna, Cristina Cabras, Francesco Colantoni, Manuel Moncada, tantissimi, Totò Caruso, Francesco Perricone, Marcello Pugliesi, salutano tutto il grande manne. Grazie mille, grazie a tutti ragazzi. Manne, legiti questo messaggio, un abbraccio forte al manne. Ciao Gennaro, grazie mille, grazie mille. Grande partita. Per la finale persa contro di te, campionati assoluti nell'ottantanove a Verona. Eh lo so, ti capisco, ti capisco, però se vuoi te la posso anche raccontare un po'. Dai, dicela, dicela, Manne. Noi giocammo contro l'Ungheria nell'ottantanove ai mondiali di Dortmund, Italia-Ungheria. C'ero, c'ero, c'ero. E giocarono Lorenzo, Nannoni, Massimo Costantini e Gennaro. Io ero riserva. E Gennaro giocò con Clampard una partita strepitosa. E chiaramente Gennaro vinse anche un set, perché Clampard giocava in un certo modo. A quel punto Clampard chiaramente se ne accorse cambiò totalmente gioco. Quindi io quando feci la finale con Gennaro ho pensato, non posso giocare in un certo modo perché se ci perdeva Clampard, figurati cosa ci avrei fatto io. Quindi mi sono dovuto un po' adattare e con un po' di fortuna anche, che ci vuole sempre, riuscì a vincere quella partita. Quindi più che altro grazie a Clampard. Fu il tuo secondo titolo di campione d'Italia assoluta. Sì. Era un Gennaro molto in fondo. Come? Primo invece titolo, lo vincesti in finale contro? Contro Giovanni Bisi. Contro Giovanni, altro nostro grande ospite. Hai perso delle finali, Francesco? Sì, nell'88 con Lorenzo Nannoni. In quel periodo lì Lorenzo Nannoni era diciamo il più esplosivo dei nostri. Diciamo che da aprile 85, quando Lorenzo perse 21-19 alla Bella da Waldner ai mondiali di Göteborg. Fino al 90 è stato nettamente il giocatore italiano, almeno in Italia, che vinceva praticamente con tutti. Dopo dal 91 in poi, diciamo, non è stato più lo stesso giocatore. Però per come lo ricordo io, fino a Dortmund, 89, come compagno di nazionale e anche nel 90 come compagno di squadra nell'osservatore Arezzo, a livello nazionale era veramente imbattibile. Poi chiaramente poi da... Scusa, scusa, stavi finendo. No, dopo chiaramente ha avuto un po' di calo, poi gli anni dopo che giocava anche un po' meglio è arrivato Massimiliano Mondello, Piacentini e quindi non è stato più il numero uno, ecco, mettiamola così. Volevo chiederti, scusa Alberto, volevo chiederti, adesso ci hai parlato di nazionali assolute, volevo sapere invece a livello giovanile, in quegli anni, quali erano le nazioni più forti e anche i giocatori che c'erano nei tuoi anni? A livello di campionati o di giovanili? Quando io e Lorenzo facevamo i giovanili diciamo che c'è stata la transizione tra il vecchio tennis tavolo e il tennis tavolo moderno. Ai tempi miei, nell'83, 84, 85 c'era Waldner, Persson, Roscoff, Gatien, Seiv, Bonschil, Peter Karlsson, Lupulescu, Primoraz, doppio imbattibile Lupulescu, Primoraz. Tutti i giocatori che già a livello assoluto erano nelle nazionali e poi dopo sono diventati più grandi giocatori della storia, almeno europea. quindi già in quel periodo lì diciamo che il nuovo tennis tavolo di quel momento lì a Junior presentava già dei giocatori che dicevano la loro a livello assoluto anche mondiale adesso è molto difficile ti fai conto Carl Prin l'inglese nell'83 quindi non aveva neanche 16 anni a Tokyo nella gara a squadra e credo abbia perso una partita mi ricordo bene di Prin perché era un giocatore che aveva passaporto anche tedesco giocava in Bundesliga allora giocava spingendo con questa puntinata molto d'attacco, un giocatore che dava fastidio a tutti i migliori a tutti i migliori, poi non riusciva magari a imporsi ma quindi già iniziava Waldner a vincere, mi sembra che a Budapest no? Iniziò la sua carriera da giocatore top Waldner arrivò in finale nell'82 a Budapest quindi neanche a 17 anni perse la finale dell'assoluto 3-2 con Apple Green che vinceva 2-0 lì ci sono gli aneddoti gli aneddoti che raccontano del nonnismo di Apple Green su Waldner ma non è vero cioè chiaramente erano agli aneddoti scherzosi dell'amico che poi inviteremo domani sera che era un po' più vecchio di loro Paolo Bargagli raccontava questi aneddoti a volte infarciti di storielline piccanti divertenti a volte qualche cosa un po' inventata però sempre per far ride questa storia che Paolino Bargagli inventa cose però già mi hai fatto quella rivelazione che col suo nomignolo turista domani gliela chiederemo adesso parliamo con Francesco adesso parliamo con Francesco comunque finiamo il discorso che dicevamo prima di Nannoni che la coppia Nannoni di Napoli è stata anche una nostra avversaria sempre in quel campionato 93-94 non mi ricordo se vinsero loro al fraterno alla fine però noi perdemmo di brutto con loro sia l'andata che il ritorno Valentino giocava in seconda coppia era piccolissimo ho proprio trovato ritrovato le fotografie che facemmo alle squadre ieri pomeriggio guardandone dei miei cassetti un Valentino bimbo che ti do anche questa notizia so che abbiamo parlato io e te spesso anche di Valentino ne abbiamo parlato anche con Massimiliano Valentino sarà nostro ospite presumibilmente domenica prossima grande Valentino so che so che tu lo consideri un numero uno Valentino sì sicuramente sì perché già quando giocava aveva un gioco chiarissimo cioè lui giocava sempre in quel modo con le idee chiare non inventava nessun colpo sapeva perfettamente fin da piccolo come giocare un punto oltre chiaramente ai risultati eccezionali che ha ottenuto sia a livello giovanile perché ha vinto due europei allievi a squadra in doppio con Giardina e poi un doppio junior con un olandese e poi chiaramente ultimamente ci ho un po' parlato anche su cose tecniche su come si imposta il gioco non è che lo devo dire io che è uno che se ne intende però mi fa piacere perché alcune idee che sono mie diciamo lui le condivide quindi mi fa piacere questo insomma che anche uno come lui abbia una filosofia di gioco un po' tipo la mia mi spiego meglio se voi guardate i risultati anche delle ultime qualificazioni olimpiche la maggior parte delle partite finiscono tutte 11-9 12-10 14-12 non bisogna regalare punti purtroppo capita di vedere io parlo un po' anche delle partite che ho visto maggiormente che ci sono dei giocatori che tentano dei colpi impossibili contro top di rovescio flip impossibili contro top di diritto quando la palla è sotto il tavolo non si possono regalare chiaramente punti e parlando anche con Valentino lui chiaramente mi diceva sì effettivamente bisogna attaccare ma con una certa cognizione di causa specialmente quando arrivi nove pari dieci pari non è certo quello il momento di improvvisare colpi così a casaccio perché poi va a finire che perdi e quando arrivi lì devi già sapere un po' cosa devi fare non è che arrivi dieci pari provi un servizio che non ha mai fatto un flip strano eccetera eccetera insomma fa piacere questo ascolta Bruno Salerno il messaggio che non ho fatto in tempo a leggere perché stavo parlando eccolo ai tempi appunto tuoi poi di Valentino di Massimiliano subito dopo diciamo la tua era eravano eravate anche dei giocatori che a livello internazionale dicevate la vostra no non solo vincevamo dei titoli a livello giovanile ma anche a livello poi da senior internazionale erano molto molto competitivi negli ultimi anni abbiamo visto che invece delle belle vittorie a livello juniores abbiamo vinto per due volte il titolo juniores in Europa però i ragazzi hanno trovato poi delle difficoltà a vivere da professionista del ternistavolo e non hanno avuto quei risultati o almeno finora non hanno avuto quei risultati che un po' tutti ci aspettavamo intanto saluto Armando Zuanig mio doppista all'Aquila 83 arrivamo secondi perdendo da Bongini del Tomba riguardo alla tua domanda con la premessa che e sono semplicemente uno spettatore che guarda le partite su YouTube quindi lungi da me il volere insegnare qualcosa ai nostri giocatori che devo dire reputo fortissimi però devo anche dire che guardando le partite specialmente anche le qualificazioni olimpiche secondo me a volte in alcuni casi dico ci sono alcuni colpi che potrebbero fare meglio che ne so per esempio i blocchi di rovescio ma non che glielo devo insegnare io potrebbero guardare come blocca ad esempio Malong questi giocatori qui oppure anche il controtop di dritto a volte quando la palla è sotto il tavolo magari tirano dei controtop che è impossibile che entrino oppure fanno delle risposte un po' azzardate e chiaramente quando lo fai sul 9 pari 10 pari va a finire che perdi la partita mentre magari si vedono dei giocatori tipo Timo Ball Samsonov che fanno sempre la cosa giusta specialmente alla fine o meglio non inventano niente giocano come dico io giocano semplice facile come la tua pagina facebook è un tennis facile secondo me con un minimo con un po' di più di attenzione specie nel finale magari alzare meno il gomito sul dritto mi è capitato di vedere ultimamente delle partite di giocatori italiani che magari sbagliano sette dritti di fila non provocati in partite importantissime perché alzano il gomito il gomito nel dritto non va alzato ragazzi ma non ve lo dico io guardate Malong guardate Ball ti interrompo perché proprio per mettere insieme due domande di Michael Oyebode che ti saluta e di Massimiliano Mondello allora Oyebode la metto in sovrappressione questi colpi impossibili che tu dici questi ragazzi da dove lo stanno imparando perché non crede che lui che siano gli allenatori che insegnano sicuramente no vuol dire che è l'insicurezza del ragazzo probabilmente che in quel momento lì non sa cosa fare come dicevi tu e quindi inventa un colpo in una situazione che certo non gli fa fare il punto giusto? allora ciao Michael secondo me quello che succede tra allenatore e giocatore io non li conosco non lo so però mi rendo conto che a volte l'allenatore e il giocatore si mettono d'accordo prima della partita su un certo tipo di tattica poi magari quando sono in partita il giocatore deraglia un po' da quella che era la tattica certo è che ci vuole che l'allenatore e c'è qualcuno che veramente lo fa parli molto col giocatore lo convinca dell'inutilità di certi colpi perché se fai un colpo e ne sbagli 10 su 10 è chiaro che non puoi continuare a farlo magari guardando dei video guardando i giocatori più forti l'allenatore parlando col giocatore ma no 3 minuti prima di una partita ci sono allenatori che con i giocatori praticamente ci vivono ci parlano 2-3 ore al giorno gli spiegano come fare il giocatore se prima faceva 10 colpi azzardati magari ne fa 8 e piano piano ne farà 0 ma se il giocatore anche io ultimamente mi diverto con qualche amico come ad esempio Enrico Gnerucci che saluto Paolo Barni Marco Fionda do i miei consigli ma è chiaro che questo è un certo tipo di tennis tavolo se te sei un professionista ti alleni 8 ore al giorno va bene che ci sta a perdere ma non puoi perdere perché alzi il gomito quando fai il top di dritto se no cambi sport o smetti di allenarti è inutile che anche un allenatore si allena con te ti insegna tutto e poi te alzi il gomito per fare un esempio banalissimo Francesco scusa se ti interrompo ti chiedo adesso la domanda che fa Massimiliano che è diciamo è il domandone da un milione di dollari come si suol dire no che cosa manca che cosa manca in Italia per il salto di qualità questa domanda qui secondo me implica tanti aspetti dei quali abbiamo parlato tante volte anche poco prima di iniziare con Bruno ciao Max allora secondo me in questo momento non è che si possono fare dei progetti a lunghissima scadenza come qualcuno sento dire aumentiamo il numero dei tesserati facciamo chissà che per fare il salto di qualità anche con i giocatori e con il livello che abbiamo perché secondo me il braccio bene o male c'è bisognerebbe innanzitutto curare di più la parte tecnica perché alcuni giocatori è in dubbio che non sanno bloccare di rovescio mi sembra ovvio no non è che lo dico io basta guardare le partite scusami ti interrompo ti interrompo ovviamente quando tu dici bloccare non intendi di giocare passivamente e stare a bloccare in attesa che l'altro attacchi cioè bloccare per poter poi riprendere l'iniziativa controllare la partita io per bloccare intendo che quando il giocatore avversario ti fa il top sul rovescio te devi metterci la racchetta chiaro no che gliela devi alzare però intanto la devi ributtare in campo e se gliela piazzi bene magari eviti il secondo top ma questo è un esempio oppure la risposta quindi è chiaro che no parlare è facile mettere in pratica è altra cosa perché se no sarebbero tutti i campioni del mondo però magari guardare di più i colpi dei campioni o qualcuno che gli spiega ad esempio Max te potresti spiegare a qualcuno alcuni colpi fallo visto che ho sentito anche che ci sei in contatto telefonico questo per migliorare le cose a breve in più la tattica ci sono degli allenatori che non ci dormono la notte per studiare le tattiche delle partite per studiare le formazioni guardano video si segnano hanno delle enciclopedie su come gioca Tizio come gioca Caio Sempronio perché un singolo consiglio ti fa cambiare totalmente la partita quindi più chiaramente ci sarà sicuramente però non è mai abbastanza la cura anche all'aspetto fisico però l'aspetto fisico lo migliori anche con più tempo invece magari curare anche un po' di più l'alimentazione l'integrazione ma a breve termine ci vuole di sbagliare meno colpi su palle facili e non improvvisare a caso quando si arriva a 10 pari ma sapere già che si deve servire così e tirare il top cosa quindi Max datti da fare e vediamo i prossimi risultati Bruno Bruno è molto secondo me secondo me per tutti gli argomenti che stiamo toccando penso che con la gioia di alcuni un pochino sforeremo oggi sforiamo avvisate le mogli avvisate i mariti non si torna a cena fino a ecco perché dobbiamo ancora dobbiamo ancora vedere alcuni argomenti importanti molto e allora Francesco per te quindi è importantissima non solo la tecnica ma anche la tattica hai scritto anche su questo è fondamentale perché lo stesso giocatore la stessa partita la può vincere o perdere è solo a 90% è tattica solo che chiaramente se te devi preparare una partita specialmente a squadra hai tre giocatori da affrontare ormai i giocatori si conoscono tutti devi sapere già prima come devi servirgli come gli rispondi come serve lui non puoi giocare delle partite e essere sorpreso da un servizio di un giocatore se non sai come fare telefoni a Mondello a Piacentini e te lo spiegano in tre secondi Piacentini proprio in progress diciamo durante la partita telefonate ma anche questo già ti fa vincere tante partite in più lavorare sui tuoi colpi Totò Caruso e per esempio Gennaro Di Napoli insistono anche che secondo loro adesso manca anche un po' di fantasia nel gioco quella che aveva Massimiliano Waldner i grandi talenti un po' di fantasia manca secondo te quello di fantasia ce n'è meno ma secondo me perché con la pallina più grande l'effetto queste cose qui hanno un po' meno importanza solo che oggi io guardando i giocatori ad esempio Timo Ball per fare un esempio non sa rispondere al servizio per esempio di rovescio non blocca una palla però è il più grande giocatore d'Europa della storia perché lui il dritto non lo sbaglia mai non regala una palla quindi la fantasia secondo me ora siamo un po' obbligati a tenerla da parte bisognerebbe però essere più concentrati su quello che fai te guarda Samsonov gioca sempre uguale da vent'anni a questa parte ogni punto lo gioca uguale non inventa niente però sa giocare i giocatori forti non inventano niente gli attuali chiaramente ai miei tempi c'era Waldner c'erano tutti questi che ti inventavano qualsiasi cosa queste specifiche sono importanti perché comunque sono le vere le vere differenze tra il gioco del passato il gioco moderno e con i materiali che sono cambiati perché come dicevamo anche di sera con il King io non ho mai visto un giocatore far girare la palla più di Shushin nonostante adesso ci sia una pallina che in effetti gira molto di meno però è proprio il tipo di gioco anche che imposta toglie un po' di fantasia e imposta forzatamente i giocatori ma adesso questa impostazione così fisica allora perché voglio io voglio arrivare ad un punto che voglio scorticare un po' il manne per tirare fuori quelle che so che sono i suoi i suoi cavalli di battaglia e cioè la preparazione fisica la ripetitività il college gli allenamenti tutte queste cose qui che so che non ti hanno mai visto totalmente favorevole ah totalmente forse forse non molto favorevole questo il discorso del college diciamo è un po' particolare e quindi diciamo rientra in una casistica un po' più grande chiaramente quando arrivi a un certo livello diciamo i primi cento del mondo se te li guardi hanno tutti dei fisici strepitosi te guarda Calderano che fa il salto mortale all'indietro da fermo per dire però se guardi Calderano non sa rispondere al servizio quindi intanto è importantissimo il fisico e va bene però è inutile che fai cento metri in dieci secondi se poi non sai giocare perché comunque anche i nostri giocatori fisicamente non saranno come Calderano però bene o male sono atletici qualcuno chiaramente potrebbe fare di meglio ma non si può dire che sono dei giocatori di cento chili che non si muovono un po' chiaramente potrebbero migliorare tornando al discorso del fisico e della quantità di allenamento l'allenamento è fondamentale e siamo tutti d'accordo però dipende anche da come ti alleni perché è inutile che te ti alleni quattro ore al giorno se poi la sera sei distrutto la mattina alle sette ti suona la sveglia devi andare a scuola devi studiare e poi ricominci ad allenarti ti trascini in palestra perché non sei in forza a mio parere è più utile allenarsi tre volte alla settimana e qui parlo per tutti i giocatori che non sono professionisti cioè che non sono tra i primi centocinquanta del mondo ma tanti altri anche di quarta categoria che io sento dire si allenano tutti i giorni ma per quale motivo del mondo o in Italia no perché c'è in Italia quando ti alleni tre volte la settimana cioè non è che ti alleni quattro volte per fare cosa magari allenati meglio quelle tre volte perché c'è gente che gioca io li conosco da 20 30 anni fanno sempre lo stesso servizio per esempio ma che hai fatto tutti quegli allenamenti che hai fatto come dice una mia amica che se ne intende in allenamento sono tutti fenomeni te guardi gli allenamenti scambi tospin strepitosi ma poi quello che conta è il servizio e la risposta più mettici anche il fisico ma lo scambio il top di diritto io vedo delle terze categorie italiane che li vedi a scambio credi che siano prime categorie è inutile che continuano a allenare quel top si sa che lo sanno fare quindi più qualità e meno quantità come dice anche Rosario Droglio in chat ma sono d'accordissimo ciao Rosario ti saluto quello sicuramente tu hai diversificato che questa quantità inferiore di allenamento sicuramente è per una fascia di giocatori che diciamo che comunque si addice abbastanza a livello medio e anche medio alto italiano perché lì dopo subentra quello che abbiamo più volte ripetuto cioè o fai il professionista e se fai il professionista bisogna vedere come campi con questo sport qui e fai una carriera o non fai il professionista e allora forse giochi meglio se hai anche dei momenti più liberi di cervello di testa di tutto quello che ti pare per vivere anche il resto della vita che ti fanno poi giocare più tranquillo anche quando hai degli appuntamenti agonistici però dopo andiamo in un argomento che è molto delicato che è quello della qualità assoluta del nostro livello che bisogna vedere quanto è possibile considerare professionista per una carriera duratura che diciamo non è che siamo proprio una disciplina che consenta i sacrifici che vedi fare a molti giovani e qui io voglio per forza tirarti fuori quello che tu pensi che credo sia anche quello che pensiamo io e Bruno cioè i sacrifici esagerati in età giovanile le clausure il college i centri federali fatti in una certa maniera fino ad oggi fino ad oggi non vedo quanti risultati eclatanti ci abbiano portato ma questo è verissimo allora per diventare dei campioni è chiaro che ci vuole molta quantità di allenamento siamo d'accordo però non è soltanto la quantità ma è anche la qualità perché io sento dire se vuoi diventare un grande giocatore ti devi allenare molto ok ma poi quando mi alleno chi è che mi insegna c'è yugo liang non lo so magari ti fa più due ore con yugo liang che due anni con un'altra persona quindi ci vuole la qualità molta soprattutto quella la quantità anche è importante ma che non diventi troppa perché non l'ho inventato io ma la teoria del super allenamento è in qualsiasi manuale di programmazione dell'allenamento rischi di fare peggio e chiaramente almeno fino a un certo livello ci arrivi anche allenandoti moderatamente ma con tanta qualità con soltanto la quantità non arrivi da nessuna parte questa è la mia personalissima opinione poi è da vedere se quanti giocatori in Italia campioni ci sono stati contiamoli negli ultimi vent'anni e tutti quelli che hanno passato ore e ore e ore allenarsi pomeriggi viaggi in treno la notte per fare cosa per essere seconde categorie per me non ne vale la pena se stavano a casa magari diventavano lo stesso seconde categorie poi ognuno fa le sue scelte io ho fatto le mie altri hanno fatto le loro chiaramente magari se non c'era il centro federale non avevamo mondello e piacentini chissà però se mondello e piacentini magari andavano in Germania erano campioni d'Europa la controprova non si può sapere quindi quindi a lato pratico hai dato hai dato diciamo un po' in modo non così proprio cattivo ma la risposta che io mi volevo volevo farti tirare fuori cioè anche se noi non abbiamo quando tu hai detto quanti campioni abbiamo avuto in Italia con tutta la stima e tutte le descrizioni positive che abbiamo fatto dei nostri reti di punta io in tutta sincerità mi sento di dire che noi di campioni non ne abbiamo avuti avremmo potremmo avremmo potuto averne però non ne abbiamo avuti perché secondo me noi siamo tuttora impreparati a svolgere un'attività di programma anzi non la svolgiamo un'attività di programmazione adeguata e mirata a migliorare in tutti in tutta la piramide tecnica e organizzativa del nostro sport che poi sostengo anche è comunque una disciplina difficilissima e non fortunata neanche a livello internazionale perché sta cercando un po' diciamo di esquisitare tutti gli stratasemi per non rimanere in tutto il mondo ping pong ed essere di più tennistavolo purtroppo questo è uno sport difficile e quindi la realtà è quella che è sì quello che dici te dipende cosa intendi per campione cioè per me giocatori tipo Mondello Piacentini Bobo Cica Toiano Mutti Leonardo venendo all'attualità non saranno dei stracampioni però comunque sono dei grandi giocatori certo certo e rispetto magari ai veri campioni secondo me gli manca non tantissimo quello che secondo me è anche importante dire è che se voi guardate i risultati delle qualificazioni olimpiche della gara a squadre ok ci sono i colossi tipo la Francia la Svezia la Germania era già qualificata eccetera eccetera ma su otto squadre qualificate io ho seguito abbastanza bene queste qualificazioni abbiamo visto la Serbia no la Serbia mi sembra Serbia con un bambino di 18 anni Levajak si chiama all'incirca che ha battuto un austriaco fortissimo e il numero 20 del mondo di Hong Kong lui non aveva vinto una partita fino a quel momento e credo che la Serbia non abbia quel bilancio federale stratosferico e nemmeno un numero di tesserati la Croazia lo stesso ha battuto la Croazia ha battuto l'Inghilterra per non parlare della Slovenia la Slovenia che ha dei mezzi in confronto anche a noi molto limitati diciamo praticamente c'è soltanto Andrea Oestersek che fa tutto lei con José che l'aiuta ha portato tre ragazzi alle Olimpiadi ma perché evidentemente c'è un modo di lavorare oltre al talento dei giocatori perché è chiaro che non è che tutti possono avere il rovescio di Jordic ma il rovescio di Jordic non è che si è svegliato una mattina con quel rovescio ci sarà qualcuno che gliel'ha insegnato qualcuno che lo allena allora diamoci da fare che qualcuno insegna ai nostri un rovescio come Jordic ti voglio far vedere una domanda dove sei? ti voglio far vedere una domanda di una domanda di Clavio Maietti infatti proprio su questo aspetto tecnico se non hai un allenatore bravo che ti corregge continui ad allenare l'errore complimenti Flavio perfetto è inutile che ti alleni 12 ore al giorno se sbagli il movimento ci vuole qualcuno che te lo insegni e se quell'allenatore non ce l'hai guardi il giocatore che lo sa fare glielo chiedi così come te hai chiesto a quelli della nazionale come rispondere ai miei servizi e mi fa piacere che l'ha detto ieri l'ha detto ieri è vero è vero è vero che quelli della nazionale si preoccupassero di come servo io questo mi fa piacere allo stesso modo si può fare anche oggi se te vedi un giocatore che ha un colpo vai lì glielo chiedi è chiaro non ti svelerà il segreto della lampada ma un pochino fallo se vedi un giocatore che ti piace siamo grandissimi perché 10 minuti fuori tempo e abbiamo raggiunto il record di presenza adesso 131 benissimo invece volevo chiederti io faccio degli appunti domande da farti ma ne sono uscite talmente tante che penso ti chiederemo il bis qui tanto noi andremo avanti con questa trasmissione Conte ci sdoganerà e ci farà uscire ma magari un appuntamento settimanale ti rinviteremo grazie ti volevo chiedere secondo te questi risultati tecnici poco soddisfacenti tu hai anche avuto un'esperienza in consiglio federale tra il 2000 e il 2004 sono anche dovuti alle scelte politiche diciamo tra virgolette che si fanno in consiglio federale questo se non lo dico io e come mi fa piacere ripeterlo io sono stato in consiglio federale e quando ero in consiglio federale non abbiamo vinto le olimpiadi quindi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e figurati se ce l'ha uno che guarda le partite su youtube le scelte del consiglio federale a volte io sono stato prima di tutto giocatore e vedevo alcune decisioni da parte dei consigli federali che a parer mio sembravano assurde e te dici com'è possibile che il presidente decida questo e pensavi ma il presidente capirà non capirà poi sono stato consigliere federale e mi sono reso conto che la realtà è una cosa la fantasia è un'altra intanto bisognerebbe sapere quali sono le scelte giuste da fare e io personalmente non le so ma anche una volta che te sapessi la scelta giusta da fare ad esempio vuoi decidere di chiamare l'allenatore XY allenare la nazionale prima di tutto ci vorrebbero i soldi secondo ci vorrebbe che l'allenatore in questione ti dia l'ok terzo ci vorrebbe che tutto il consiglio sia d'accordo questa è una decisione riguardo all'allenatore che deve trovare l'accordo di tutto il consiglio serve una visione per avere questo serve la visione e serve che te sai benissimo come funzionano le campagne elettorali e il presidente non è che fa sempre quello che è il suo desiderio almeno è quello che mi pare di vedere se il presidente ritiene una certa cosa a volte non la può fare ti faccio un esempio io mi sto battendo anche nel mio sito contro alcune cose ad esempio le palestre che non hanno il pavimento in gomma ok lo dici al presidente federale il presidente ti dice lo so meglio di te che per giocare ci vuole almeno una gomma per terra ma che faccio quella società ha 8000 voti gli blocco il campo gara e a quel punto che gli fai? purtroppo è questa la logica sono d'accordo per cui intanto bisognerebbe sapere cosa fare perché io personalmente non lo so ho le mie idee ma mica è sicuro che così le cose andrebbero meglio non lo so e poi ti scontri con una situazione particolare magari facevi in un altro modo e le cose andavano peggio perché comunque i nostri tre giocatori ho visto la partita col beggio hanno giocato anche bene magari vincevano e si gridava al miracolo e questo è un aspetto tante altre cose che te mi dici potrebbero andare meglio ok sono d'accordo con te però che che ci fai? questo non lo devi chiedere non lo devi chiedere a noi due perché non abbiamo ancora poi è chiaro ci lamentiamo che esternamente un po' ci snobbano però intanto noi dovremmo un minimo prenderci sul serio per cui io ho giocato delle partite anche di serie A sul pavimento in marmo cioè io mi alleno un anno per giocare una partita poi perdo dal primo che passa perché gioco sul marmo è così che si incentiva sì Alberto sei tu che sei il terreno ma sono stato io a escluderti non ti preoccupare noi andiamo avanti altri cinque minuti ma hai tempo? sì sì io figurati fino bene altri cinque minuti non si sa quando altri cinque minuti e poi un'altra cosa che secondo me potrebbe essere fatta anche a livello così amatoriale non credo che tutte le società lo facciano per esempio nel tennis magari te non sei associato a nessun circolo prende e vai a giocare bisognerebbe che anche ci sia da parte delle società non lo so com'è possibile che magari se domattina uno si alza e dice voglio fare due scambi con mio figlio prendi e vai la possibilità del tesseramento libero magari ma non il tesseramento giocare più liberamente in uno spazio come può essere anche un'accademia del biliardo come c'è ad Arezzo che fortunatamente mi ha concesso di metterci un tavolo ma perché sono appassionati di tennis tavolo Alfredo e il fratellino ma ci vuole anche questa possibilità perché così per fare tennis tavolo anche come l'accademia i ragazzi passano da un posto vedono il tavolo gli piace giocano noi molte società sono dei club un po' troppo chiusi secondo me dovrebbero permettere un po' a tutti non so nemmeno se a livello tra virgolette medico è consentito magari ci sono problemi di certificati medici responsabilità cose un po' più complicate però di certo ti posso assicurare che ad Arezzo per dirne una non è così semplice se te domattina ti svegli vuoi andare a fare due tiri a ping pong non c'è 27 tavoli per dire ma così a Arezzo ma anche in altre città non c'è la possibilità di giocare la mattina in da nessuna parte quindi già che c'è a Arezzo un posto dove poterlo fare è già per dire ma da tante altre parti ci potrebbe essere poi chiaro ci sono le società che hanno le palestre delle scuole e lì devi montare e smontare però come fai avere una diffusione enorme se non hai il posto il posto ragazzi ragazzi non voglio chiudere la trasmissione perché per me possiamo andare avanti quanto vogliamo abbiamo ancora più di 120 persone collegate pensa un po' te nella media sempre sopra 100 comunque e volevo sdrammatizzare un po' perché sennò prendiamo una piega troppo troppo seria però faremo una puntata su questo e voglio e voglio allora Roberto Roberto Serti manda via Alessandro Di Marino dicendo che di andare via perché tanto hanno già parlato del servizio ovviamente del servizio coperto è una domanda è un argomento che trattiamo so che tu so che tu ne parliamo spesso dai allora l'argomento servizio è una cosa che da esterno io non riesco a capire una cosa ci sono delle regole abbastanza chiare e ci sono anche delle foto ancora più chiare su facebook si vedono benissimo servizi completamente irregolari basta fare i fermi immagini di alcune partite ma non soltanto a livello nazionale ma va detto anche internazionale gente che serve da dietro l'orecchio in una situazione così chi ci rimette sono quelli pochi che servono onestamente quindi io spero intanto che gli arbitri facciano rispettare un po' più il regolamento anche se ci sono pochi arbitri però potrebbero un po' girare per i tavoli e a livello internazionale lo stesso ne parleremo sabato con Emilia Pulina giudice arbitro internazionale proprio di questo però voglio chiudere chiedendoti una cosa secondo te nel tennis tavolo è stata sperimentata la varra proprio per i servizi secondo te potrebbe essere una novità interessante per gli atleti per gli spettatori anche sia televisivi che sul posto io ho visto qualche filmato così sicuramente sì è un segnale abbastanza forte però molti dicono eh ma se ci mettiamo a chiamare i servizi poi ne chiamiamo il 99% ma non è così perché se gli arbitri iniziassero a chiamarli ne basta uno due tre o quattro e poi tutti sapendo che la musica è cambiata servirebbero regolari a me è capitato di richiamare l'attenzione a qualche a un arbitro a un torneo dicendogli ma non lo vede quel servizio dietro la schiena l'arbitro lo sai che mi ha detto no ma cosa stai dicendo è un servizio regolare a quel punto io oppure ti ha detto no ma l'ha alzata no ma l'ha alzata cosa è così quindi ci vuole e magari chiedete all'arbitro che verrà perché gli arbitri non chiamano i servizi perché se a un torneo ci sono un milione di servizi fatti perché se te conti gli scambi fatti in un torneo ci saranno non lo so migliaia e migliaia di punti non chiamano un servizio ma ce ne sarà uno tra tutti un servizio irregolare o no in campionato ma l'avete visto tutti su facebook del circolo prato per esempio alex meucci grandissimo fotografo che posta le foto gente che serve con la pallina sul tavolo e gli arbitri che non chiamano i servizi e allora che pensiamo che il ragazzino di 12 anni lo fai servire regolare no beh oppure oppure manne oppure manne torniamo a quello che era prima che si poteva servire sotto il braccio se diamo tutti tutti come vogliamo oppure si faccia una regola diversa perché questa regola qui è interpretabile secondo me e poi tra l'inganno confonde gli stessi arbitri che tu chiami un arbitro per per dirgli che questo se l'è lanciata troppo dietro e quello dice sì ma l'ha staccata oppure gli dici guarda è sopra il tavolo no però non va indietro allora entriamo anche nell'ambito di come formarsi su determinate regole e con quali difficoltà però in effetti voglio dire quando noi parliamo di Valner abbiamo recentemente detto il più forte dei tempi è Valner però voglio dire in quei tempi lì se vediamo le immagini di quei tempi si facevano servizi che adesso griderebbero lo scandalo allora torniamo a quei servizi se per una vita abbiamo considerato se per una vita abbiamo considerato i giocatori migliori di tutti i tempi i giocatori migliori di tutti i tempi quelli che giocavano in questa maniera qui come dicevi tu no? che mi raccontavi la partita di Valner da bambino contro Kaizenua 30-28 alla bella che con non so quanti punti quante serie di servizi 5 punti di uno e 5 punti dell'altro per servizio era così ai mondiali di Tokyo ai mondiali di Tokyo quando si poteva servire veramente dietro la schiena no e poi poi sì allora c'era anche il discorso fra l'altro sì c'era il discorso delle due gomme uguali battere il piede queste cose qui ecco battere il piede recentemente io ho assistito a una discussione su Facebook proprio su il battere il piede come se fosse un'azione di disturbo che lo è stato soltanto nel periodo delle due gomme dello stesso colore e quando magari quella invece è una reazione fisica involontaria dell'atleta ci focalizziamo sul pastiglio del battere il piede quando magari la pallina non la vediamo né partire né essere colpita cioè molti ormai ne fanno chi è bravo a far la vittima tante volte esagera e dice ah non vedo il servizio però effettivamente è così cioè chi tanto quando alla fine tutti quanti più o meno come dicevi te sono veramente pochi quelli che servono sempre a regolare io però posso dire una cosa che in tutta la sua carriera di giocatore come l'ultima cosa posso dire una cosa io invece guardo i servizi poi se la finisco in tutta la sua carriera Sansonov non l'ho mai visto servire una pallina che non si vedesse da quando partiva a quando veniva colpita e quindi giocatori di un certo livello ci sono di un certo valore che servono le regole negli anni sono cambiate quindi lui si è adattato ma lui però lo faceva anche prima ti giuro lui lo faceva anche prima però prima si poteva adesso non si può quindi lui si è adattato ha evoluto anche il suo gioco io ringrazio con questa promessa che ormai ci hai fatto in diretta di essere nostro ospite in una prossima sì sì volentierissimo ringrazio ringrazio Alberto purtroppo la linea è andata via solo un minuto con lui e salutiamo tutti i nostri amici ce ne sono una valanga in chat che ti salutano grazie mille a tutti grazie mille a tutti ragazzi grazie buonasera a tutti ciao Manne ciao Alberto ciao Bruno ciao Francesco grazie